Dal sito bravibimbi.it 26esima settimana di gravidanza Tu durante la 26esima settimana di gravidanza ti sentirai instabile a causa del peso che porti nella parte anteriore del tuo corpo e potresti avere dei problemi non solo a legarti le stringhe delle scarpe ma anche a guidare Questo è il periodo in cui ti sarà difficile riposare proprio perché quando vorresti dormire tu si sveglia sempre lui Come detto nella settimana precedente cerca di imparare i momenti di veglia e sonno e adattarti Il tuo bebè durante la 26esima settimana di gravidanza Sono comparse le ciglia Adesso cresce di un centimetro a settimana e pesa quasi un chilo Alcuni studi eseguiti su bambini nati prematuri hanno rivelato che già dalla 26esima settimana di gravidanza il loro apparato olfattivo è sviluppato Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!